segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te stefano feltri vorrei chiedere anche una tua valutazione a questo punto della vicenda dove però dobbiamo dirlo attualmente poi sono sbarcati tutti è rimasta soltanto la ocean viking viking in viaggio le cose che dice monteni sono le stesse cose manipolatorie false che abbiamo sentito negli ultimi anni che non hanno mai portato a niente a cominciare dalla distinzione su tra migranti e rifugiati o richiedenti asilo che i leghisti evidentemente sono gli unici che riescono a fare a occhio guardano in faccia intensamente un migrante capiscono se un richiedente asilo un migrante economico ecco la legislazione internazionale diritti dell'uomo dicono che non si fa così dicono che tu puoi decidere se uno ha diritto d'asilo dopo che quello l'ha chiesto dopo che è stato messo in condizione di chiederlo cioè se uno sta in mezzo al mare e magari parla soltanto un dialetto africano non è nella condizione esatta per spiegare la sua situazione specie se magari è traumatizzato da alcuni giorni di traversata quindi non è che uno guarda nelle pupille dirige secondo me a spanna e tu sei un migrante economico ecco la legge dice che devono arrivare in un porto sicuro devono avere la possibilità di dire chi sono devono avere la possibilità di chiedere asilo devono avere la possibilità di fare appello se il diritto d'asilo viene negato e così via quindi questa è la prima diciamo balla che raccontano che ha detto anche la presidente del consiglio guardando diciamo quelli sono tutti i migranti ecco questo già qualifica l'operazione come illegale come rispingimento collettivo poi c'è la questione che semplicemente al netto della valutazione di umanità e diciamo sul mio giornale oggi nadie orbinati parla di male da scrivania lo stesso approccio che aveva adolf eichmann si è trasferito giù giù fino al carico residuale come le persone vengono ridotte a numeri senza valutare niente ecco al di là di questi aspetti facciamo finta di non vedere semplicemente il metodo leghista non funziona non hanno mai fermato nessuna nave non è mai non hanno mai cambiato niente ma semplicemente le leggi non sono dalla loro parte alla fine i migranti sbarcano sempre possono sbarcare dopo sofferenze inutili o prima questo di solito l'approccio se uno vuole cambiare le cose deve fare deve cooperare con gli avversari scusate coi partner recuperare con i partner internazionali e non fare queste furbate come con la francia deve convincere i paesi dell'est e quelli che si oppongono ai ricollocamenti a prendere le persone che devono essere ricollocati in europa e deve avere una politica verso il nord africa che non è quella che è stata fatta finora nel senso che partito di molteni appoggia la russia appoggia e gemellato con russia unita la russia uno dei fattori che destabilizza la libia la libia è stabile no non siete gemellati con russia unita non siamo gemellati con russia unita no assolutamente non siamo gemellati con russia unita io credo però di aver spiegato che rispetto che rispetto dopo di che i problemi non si risolvono in questo modo è facile narrarli no ma io rispetto ruolo del giornalista di sinistra cioè ci mancherebbe altro dopo di che però non può definire non può assolutamente definire alle fake news delle ricostruzioni che sono assolutamente semplicemente una cosa io non so il richiedente asilo il migrante io so tanto una cosa felt riguarda io so soltanto una cosa che non è vero che in italia come in altri stati si entra con quelle modalità lì scusa se in italia abbiamo 6 milioni di immigrati regolari saranno entrati in qualche modo io dico semplicemente che in italia semente si entra in modo legale il concetto della legalità ti dovrebbe stare particolarmente a cuore in italia non si entra col barcone col barchino rischiando notizie di adesso un bimbo è stato trasportato morto a lampedusa io credo che questo sia disumano io credo che lega anzi io dico io sostengo e lo dovrebbe sostenere comunque persona di buon senso che tu in italia come in qualunque altro paese del mondo entri in maniera legale ci sono delle normative c'è la turco napolitano che appoggia sulla legge bossi fine che appoggia sulla legge turco napolitano in italia entri con un permesso di soggiorno entri per lavorare entri in legalità entri in sicurezza ci sono delle modalità di ingresso legali che dobbiamo sostenere e valorizzare è disumano pensare che soggetti donne bambini debbano prendere un barcone pagando scafisti e trafficanti per poter arrivare in un altro paese delle modalità di ingresso legali in italia ci sono quelle vanno valorizzate quelle vanno sostenute questa è una politica non sovranista leghista questa è una politica del buon senso diciamo se uno infatti serve fare però anche corridoi tutte queste cose qui però qui si tratta della gestione di fatti specifici con piccoli numeri tutto sommato perché sappiamo che sono arrivate migliaia di persone sempre questo era poi la notazione che faceva perché il tema dell'immigrazione se mi consenti di dire è un tema estremamente complesso noi ogni giorno abbiamo 100 milioni di persone che in giro del mondo se diciamo la battaglia braccio di ferro simbolo su contro le navi ONG poi ha un'efficacia in tutta questa campagna o anche un'efficacia nel porre un tema c'è un tema dell'italia che ha un problema anche di come dire di cinismo anche di altri paesi sicuramente è così anche se tanti paesi la francella germania prendono più migranti questo ma credo che sia esattamente questo il tema sì io credo che sia però non si il punto è risolverlo in questo modo o farci anche una parte perché noi siamo partiti da quei tweet dalla nota di palazzo chigi che adesso c'è e facciamo vedere fatta in un tempo sbagliato non serve a niente neanche dal punto di vista del risultato però fatemi andare